Allora Enrico, abbiamo lanciato un po' di cose, ricordiamo l'ultima che ci sarà sabato e domenica a rifiutiamoci, l'iniziativa del Partito Democratico Provinciale che noi abbiamo chiaramente acquisito come nostra e la faremo sabato alle ore 10 presso il mercato cittadino. Ci sarà una raccolta firme perché vogliamo far capire alla Raggi che ognuno si tiene i propri rifiuti, non perché i romani abbiano una dignità di meno della nostra, ma già noi abbiamo i problemi con i nostri rifiuti, credo che la Raggi deve pensare ai suoi rifiuti. Purtroppo su Facebook, sui social sta girando la foto della nave che se le porta via. Quello è un altro discorso che andremmo ad approfondire perché ci mancava anche l'immondizia in città, dentro il porto di Ciechi, io spero che queste cose siano un po' sistemate, quindi vi aspetto, do appuntamento a sabato, ci vediamo sabato mattina. Lo accetteremo se si portano via pure l'altra immondizia, quella umana. Quello lasciamo. Grazie a tutti.